Siamo partiti? Sì, piano piano. Siamo in diretta. Ancora sì, ancora non arriverà la notifica. Arriverà adesso la notifica della diretta con i patenti mezzi. Allora, che cosa ho detto prima quando le mie labbra si muovevano stile pesciolone e non si sentiva niente? Ho detto di che cosa avremmo parlato in questa puntata, credo sia la terza o la quarta, non mi ricordo. Questa volta parleremo di lievitazione, amici miei. Lievitazione, le varie forme, quella meccanica, quella chimica, le due biologiche, ossia quella con lievito di birra e quella con lievito madre. E parleremo un po' di tutto questo con le differenze, i pro e i contro di ciascuna di queste tipologie di lievitazione. Perché ricordatevi che noi quello che cerchiamo di fare è portarvi in una condizione di conoscenza tale che voi possiate poi alla fine definire quello che volete in anticipo. Progettate il vostro impasto e otterrete qualcosa di quanto più possibile simile a quello che vi aspettavate. Quindi non deve essere un gioco a casaccio, un tiro alla cieca, una prova senza sapere a cosa si va in conto, ma deve essere qualcosa di desiderato, voluto e programmato. Questo nei mondi diciamo più belli, l'iperuraneo, quello bellissimo astratto. Però prima di tutto questo, cari amici, togliamo un attimo i libri da parte e parliamo di questo evento. Intanto che voi vi collegate, io vi faccio vedere questa locandina. Giorno 20 giugno, quindi tre giorni fa ormai, si è, guardate quanto è bello, un trancio del nostro cuore per voi. Quanta retorica in questo titolo, non l'abbiamo scelto noi ragazzi, l'hanno scelto i nostri amici del Policlinico di Torvergata. Perché che cosa è successo? È successo che il 20 giugno, giorno di Sant'Ettore, io lo dico sempre, auguri a tutti i Tettori, io mi chiamo Tettore pure io, abbiamo festeggiato, nel mio nomastico, ma soprattutto abbiamo festeggiato un momento di ringraziamento per tutto il personale dell'ospedale, ma degli ospedali in generale, perché volevamo ringraziare questa gente meravigliosa per quello che di bello avevano fatto, per i sacrifici, per l'impegno, per tutte le cose bellissime che hanno saputo fare nel periodo della Covid, voi sapete che è un periodo nero, che non è ancora del tutto terminato, però sapete quanto ci ha assillato, quanto ci ha mortificato. Però in compenso questi ragazzi sono stati al nostro fianco e siccome purtroppo l'Italia è così, ragazzi lo sapete bene, vivere in Italia significa sentire tante promesse e ottenere poche garanzie di risultati per il mantenimento e anche così è stato per questi poveri ragazzi. Quindi i politici faremo, diremo, offriremo, regaleremo, garantiremo, daremo, non hanno garantito un piffero di niente, questi ragazzi sono ritrovati nella stessa situazione penosa in cui si trovavano prima. E allora abbiamo pensato, noi della confraternita abbiamo questo, diciamo, stigma all'interno del nostro DNA, questa caratteristica di offrire quello che noi facciamo, la nostra passione, il risultato della nostra passione che è quanto di meglio possiamo produrre, sia pure modesto, sia pure umile, diciamo, che è un pezzo di pizza, lo possiamo sicuramente offrire ai nostri amici. Ripeto, è il gesto, il simbolo, il segno. Però all'interno di questo segno avevamo un problema, cari amici, cioè erano 5.000 persone che lavorano al Policlinico di Tor Vergata, non è un ospedaletto provinciale, sai, una di quelle piccole situazioni in cui è possibile gestire poche gente, quello è Policlinico Universitario di Tor Vergata, che è una cosa grossa, quindi 5.000 addetti all'interno. Poi tutti i diplomani, i specializzanti, tutto l'ira di Dio che c'è là dietro, il personale addetto. E ci lavora pure il nostro Francesco Priori, l'altro priore della confraternita. E quindi grazie a questo trasituro, si dice a Foggia, grazie a questo trasituro, cioè questa intermediazione del nostro amico Francesco, siamo entrati in contatto con i vertici dell'ospedale e abbiamo fatto questa proposta di offrire questo trancio di pizza, proposta che è stata particolarmente impegnativa perché a parte la quantità, ragazzi noi abbiamo fatto 150 chili di farina, abbiamo fatto 230 pizze bianche, 230 pizze rosse, 270 più 270, quindi 540 pizze, che poi sono state divise in sei tranci, quindi anche delle dosi abbastanza generose. Le abbiamo distribuite su tutti i reparti facendole partire con i cartoni, poi le abbiamo offerte al personale durante la pausa mensa che avevano, avevamo locali sistemati, avevamo una schiera di forni messi in fila e tutti insieme con un bel gruppetto di una quindicina di ragazzi abbiamo messo su una specie di circo della pizza, una cosa bellissima, bellissima ragazzi, commovente, vedete, voi vedevate tutti questi professori con bianchi, con lo stetoscopio appeso, che venivano, ma come funziona, dove si paga, noi professori, no, 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 voi non pagate, perché non paghiamo? E perché questo è il nostro modo di ringraziarvi per quello che avete fatto? E voi vedevate che questi si numerivano negli occhi, cioè si commuovevano perché dicevano che nessuno ci ha mai pensato finora a farci un bel regalo, quindi è stato molto impegnativo, ma anche di grandissima soddisfazione a livello umano, una delle cose più belle forse che la confraternita abbia mai fatto, malgrado ne abbiamo fatte proprio tante di finora, però sia nei numeri e se tutto il resto, ricordatevi conto che stavamo fra 3.000 o ben oltre 3.000 pezzi di pizza, belli grossi, da 100 grammi in uno, quindi mortadella, la famosa pizza in mortazza, abbiamo fatto la margherita, abbiamo fatto anche una salsina particolare da offrire, un po' piccante per quelli che volessero azzardare un momento un po' di rischio e quindi abbiamo offerto questa cosa, è durata qualche ora e abbiamo avuto un risultato di ritorno, di affetto, di ringraziamento, di coscienza di quelle che erano state i nostri sentimenti per loro, quindi tutto veramente bello, 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 bello e orgoglio grandissimo a mille, però veniamo adesso a quello, fra l'altro scusatemi, voglio dirlo, sia nei numeri di prodotto che siamo riusciti a offrire, sia nella qualità del prodotto, siamo riusciti perché ci siamo stati coadiuvati da altre realtà, c'era un forno professionale che si è messo al nostro fianco, noi abbiamo impastato la domenica notte alle 3, io, Francesco, Cesare Ud, che non so se mi sta sentire, Cesare Cano, eccolo, ciao Cesare, che è stato giù con noi, con il figlio, il povero figlio, immaginato un ragazzetto che neanche maggiorenne viene giù e alle 3 della domenica mattina si ritrova alle 3 di mattina al forno, è una cosa proprio sfruttamento, veramente, un lavoro minorile e abbiamo fatto questa cosa mostruosa e solo così siamo riusciti, poi anche logisticamente spostare i forni, portare tutta quella quantità di pizza, imbustarla, scaldarla, è stata veramente una cosa pazzesca, quindi siamo contenti, abbiamo messo un altro bel ricordo in cantina. Adesso veniamo al lavoro di oggi, prima di parlare della lievitazione, vi do delle informazioni che poi se volete ve le annoto anche nei commenti in modo che vi resta qualcosa. Ci sono 3-4 libri che voi dovete avere per forza a casa, allora il primo, già forse ce l'avete tutti, è il Grande Libro del Pane, il Grande Libro del Pane è fondamentalmente una riedizione del famoso Panificando di Giurilli e Lipetskaya, sono due mostri sacri, colonne portanti, pietre d'angolo, non so come chiamarli, ma insomma due pezzi da 90 che bisogna avere a casa, quindi questo libro tenetevo la parte perché vi racconta gran parte delle cose da sapere sulla lievitazione. Poi abbiamo sempre di Giurilli, questa volta senza Lipetskaya, non so che fine abbia fatto fa, la lievitazione lenta, lievitazione lenta si sofferma un po' di più sul lievito naturale, vi consiglio anche questo, vi spiega il B e il B, che diciamo in maniera abbastanza fruibile, molto semplice, piacevolissima. E poi ragazzi ci sono i due grandi mostri della lievitazione naturale, abbiamo qui Panettone e Viennoisri, che cos'è? È un libro scritto da Prefazione di Giuseppe Pepe, il libro è raccolto da Thomas Chamberlain, boh, vabbè, non è interessante, quello che è interessante è il contenuto, ha raccolto molte informazioni, ha raccolto tante ricette fatte con lievitazione naturale, ha raccolto tutta una serie di informazioni sulla gestione del lievito naturale, quindi troverete la parte che riguarda il licoli, troverete la parte che riguarda il solido, troverete tutte le informazioni sul lievito naturale e soprattutto grande quantità di ricette con lievito naturale. Qui per esempio c'è la ricetta di Roi, sapete il panettone di Roi, questa specie di essere mitologico che ha creato i grandi bolle, quindi lui è contenuto anche con la sua ricetta dentro questo libro, dovete prendervelo, costa un botto, costa 70 euro circa, ci dentro a lui, però re imperatore di tutta questa bibliografia è questo qui, PH 4.1, scienza e artigianalità della pasta lievitata. Questo è Gian Battista Montanari, signori miei, chi è lui? Qui vale la pena parlare di chi è che l'ha scritto, perché questo l'ha proprio scritto tutto, non è raccolta di ricette, questa è roba sua. E Gian Battista Montanari è il più grande di tutti i lievitisti italiani e forse mondiali, ha scritto una quantità di lavori scientifici mostruosa, se cercate montanari.pdf vi esce di tutto su Google e non è tutto quello che ha scritto, perché tutto quello che ha scritto stanno nelle riviste specialistate del settore e sono pazzesche le qualità di questo signore, ha fatto analisi sull'evità naturale, contenuti, tipologie di tutti i ceppi batterici che lo compongono, una cosa pazzesca, veramente un lavorone ed è serio, su questo è un signore veramente serio. Lui vi dice di tutto, anche lui divide il libro in due, c'è la parte teorica per tutte le ricette, quindi è piacevole ma è anche pratico. Questo è un libro da tenere, ok? Questa è la base di quello che serve a tutti noi per fare un bel lavoro, per avere una bella competenza sul settore. E veniamo alla lievitazione vera e propria, parliamo di questo passaggio così importante all'interno del nostro gioco, dei nostri lievitati appunto. Perché è importante? Perché tutto il gioco della panificazione, quindi panificazione pizza, parlo per panificazione, riguarda anche i prodotti lievitati da forno, quindi tipo le viennoaserie appunto, i panettoni, i grandi lievitati, tutto questo mondo gira intorno a un unico principio, come fare per incorporare quanta più aria possibile all'interno dei nostri impasti, punto. Questo è tutto raga. Cosa si fa? Più aria si riesce a mettere, più il prodotto avrà aumentato il suo volume e quindi sarà il risultato poi soffice, morbido, piacevole al morso. Questa con varie declinazioni, la più croccante, quella friabile, quella invece un po' più dura e ce ne sono parecchie di declinazioni, sapete bene, sono quasi infinite. Però il gioco è sempre quello, produrre gas, inserirli nell'impasto, trattenerli nell'impasto e ottenere un prodotto lievitato, molto soffice e piacevole. Questo è il gioco che noi facciamo insieme a tutti i grandi maestri, lo facciamo anche noi, nel nostro piccolo, la nostra umiltà lo facciamo anche noi. Come si ottiene questa incorporazione del gas all'interno dell'impasto? Si ottiene fondamentalmente attraverso tre tipi di lievitazione. La prima, la più semplice è quella meccanica. Meccanica vuol dire sbattimento. Qual è la meccanica? Alcuni forse ti stupiranno e diranno che è questa lievitazione meccanica. La lievitazione meccanica è quella più semplice che per esempio si ottiene con il pan di spagna. Per esempio il pan di spagna si ottiene facendo la lievitazione meccanica. Non si ottiene incorporazione o produzione di gas all'interno del prodotto lievitato, ma si ottiene una generazione di aria, incorporazione dell'aria, dei gas dell'aria attraverso fruste a mano, fruste meccaniche, quelle della nostra planetaria la più classica, all'interno di un prodotto che riesce a trattenerle e quello quando va in cottura trattiene tutte quelle micro bollicine e vengono cotte con quella struttura. Quindi si ottiene un prodotto bello, soffice, piacevole, al morso, uniforme e questo è il classico prodotto da lievitazione meccanica. Quindi niente di chimico o di organico che produca gas, ma semplicemente incorporazione del gas all'interno dell'impasto. Poi c'è la seconda, la seconda è la lievitazione chimica. La chimica è fichissima, è quella delle nostre nonne quando dicevano prendi il bustino di pane angeli, prendi l'impasto. Quello è un normale prodotto chimico, ce ne sono tantissime tipologie, baking soda, semplicemente bicarbonato di sodio, sono due cose un po' diverse. Cremor tartaro, altri acidi che vengono utilizzati, ma addirittura ce n'erano alcuni che erano stranissimi, molto elementari, molto piccoli, ed era il bicchierino di alcol che veniva poi fatto in modi diversi, per esempio c'era quello aromatizzato, quello liquorino, rosolio o altro, o alcol pure semplice, perché l'alcol immesso all'interno dell'impasto quando veniva sottoposto a calore si dilatava e otteneva l'effetto di aumentare un po' il volume del prodotto. Chiaramente non aveva l'efficacia l'efficienza di questi nostri altri prodotti più recenti chimici, ma anche quelli, io per esempio mia nonna, nei suoi tarallini pugliesi, scaldatelli pugliesi, la lievitazione l'otteneva attraverso, non metteva lievito, ma metteva un bicchierino di alcol come prodotto lievitante. Ora, altre tipologie sono bicarbonato, cremor tartaro, ci sono baking soda che è bicarbonato più un agente acido, sono tutti prodotti che hanno la caratteristica di essere sottoposti a calore e al momento del calore sviluppare una buona quantità, anche tanta, anidia carbonica. Anidia carbonica che è il gas che per elezione è stato scelto un po' in tutti i tipi di lievitazione e che servono poi per gonfiare i nostri impasti. Anidia carbonica è neutra nel nostro organismo, a meno che non venga assunta in quantità industriali, tali che non riusciamo certo a assorbire tramite la masticazione del nostro pane o della pizza. Quindi questa è la lievitazione chimica. Il terzo tipo, e quello più interessante, è il tipo di lievitazione su base biologica. L'evitazione biologica, amici miei, è tutta altra cosa rispetto a quella meccanica o chimica che sono di facile realizzazione, sono più o meno standard, hanno risultati molto prevedibili, quindi sappiamo esattamente a cosa andiamo incontro, mentre la lievitazione biologica è tutta un'altra cosa. Perché? Perché sono vivi. E come tali noi dobbiamo avere a che fare con quantità di agenti chimici vivi, di agenti biologici vivi. E stato di salute, capacità di reazione, temperature, sapete, si innestano tutta una serie di variabili che rendono la cosa molto meno prevedibile, molto più, diciamo, variegata, sfaccettata nei suoi risultati e quindi anche più interessante. Insomma, se fosse facile non avrebbe molto interesse da parte nostra. Invece noi cerchiamo, ovviamente, di fare cose un po' più stimolanti, un po' più difficili, ed ecco che abbiamo trovato nella lievitazione biologica. Che ha anche qui una doppia declinazione. L'lievitazione biologica può essere quella del lievito di birra, il famoso fungo Saccharomyces cerevisiae, che è un fungo che è stato messo a punto da un ricercatore sloveno, e poi è stata, diciamo, approfondita la modalità, è, diciamo, definita in maniera scientifica, la modalità di allevamento da Louis Pasteur, il famoso biologo francese. Lui mise a punto un sistema per coltivare il lievito e produrre in quantità industriale, industrialmente, il lievito di birra, però c'era poi un problema, che il lievito di birra non era gestibile, perché lui l'ha fatto alla fine dell'Ottocento, ma in realtà poi non era commerciabile, perché moriva nell'arco di poche ore, non essendoci frigoriferi ancora gestibili. Nella seconda dopoguerra abbiamo arrivato all'arrivo dei frigoriferi e con questi la possibilità di ottenere per qualche giorno i nostri lieviti in frigo, farli mantenere, e quindi ecco che il lievito di birra è diventato il nostro ospite prediletto in tutte le famiglie, cioè il cubetto di lievito di birra, in più o meno avanzati stati di conservazione o barra decomposizione, comunque questi nostri lieviti di birra sono quelli che più hanno colonizzato le nostre case. Che caratteristiche ha, anzi definiamo prima l'ultima di tutte queste macro-categorie, che è il lievito naturale? Ecco ragazzi, andiamo in un pianeta così composito, così complesso, così variegato, pieno di variabili incredibili, tale da poter assorbire l'attività scientifica di un personaggio come Giovanni Battista Montanari, che ripeto è un calibro 100, proprio un pezzo grosso veramente, che ci ha dedicato tutta la vita. Quindi pensate quanto possa essere complessa l'attività di studio intorno a questo tipo di lievito, con varie possibilità, con varie conseguenze rispetto alle scelte di azione. Quindi veramente è un pianeta molto complesso. Una cosa che adesso chiederò, e non so se riusciamo a realizzare al volo, è il ritrovamento del piaccametro, perché ne parleremo la prossima volta, ma volevo già mostrarvelo subito, perché è fondamentale per la gestione poi del lievito naturale. Comunque fondamentalmente parliamo di questo lievito naturale, poi mostrerò il piaccametro. Il lievito naturale è fondamentale, è composto da una flora batterica. Che vuol dire flora batterica? Vuol dire che non c'è, come nel lievito di birra, un monoprodotto riprodotto all'infinito, in grandi quantità, in grandi numeri, ma sempre solo il saccaromice cerevisi, il funghetto, è solo lui all'interno del cubetto. Qui nel lievito naturale la situazione cambia in maniera radicale. Ci sono parecchi gli esseri viventi che coabitano all'interno del lievito naturale, anche in maniera molto complessa. Ecco, questo qui, grazie a una potente gentilezza. Questo è il nostro piaccametro, è un piaccametro speciale per semi solidi, quindi formaggi, creme, non è solo per i liquidi, costa un patrimonio, è una cosa francamente imbarazzante, però per chi vuole andare un po' più a fondo in questo mondo diventa un acquisto assolutamente da fare. Noi abbiamo fatto una convenzione con un prodotto, quindi se vi interesserà poi ne parleremo, soprattutto nella prossima puntata, quando parleremo del lievito naturale in maniera più approfondita. Per adesso il lievito naturale è importante dire che è composto da alcune famiglie di microorganismi, alcuni sono gli stessi funghi che troviamo nel lievito di birra, quindi per esempio il Saccharomyces cerevisi lo troviamo anche nel lievito naturale, sia pure in qualità percentuali molto ridotte, 5-10%, 2-3%, a seconda delle condizioni del lievito. Poi troveremo altri funghi, non soltanto il Saccharomyces, troveremo anche per esempio la Candida, che non è un fungo piacevole, quindi molti di voi già lo sapranno, è un qualcosa che è meglio evitare. Infatti la Candida viene tenuta in quantità ridottissime, però c'è, proprio grazie al pH sviluppato dal lievito naturale. pH molto basso, il famoso 4, è talmente basso ed è talmente acido da tenere sotto controllo i funghi. Questa eterna guerra fra funghi e batteri, è un'eterna guerra amici. Pensate che i funghi sviluppano degli argenti che sono violentamente contro i batteri, contro i lattobacilli o i bacilli in generale, voi pensate ai batteri, voi pensate al fungo della penicillina, quello è un fungo della penicillina, sapete che è stato scoperto proprio perché Fleming lo scoprì, perché dentro la sua capsuletta si era formato attorno al fungo tutta una zona in cui i batteri erano morti, erano scomparsi completamente. E così scoprì che la penicillina aveva un effetto antibiotico potente e l'antibiotico significava appunto che uccideva la vita, cioè i batteri. Quindi c'è questa guerra continua fra funghi e batteri che cercano di... e alla fine trovano un equilibrio all'interno del nostro lievito naturale. Capite bene che le condizioni per trovare il giusto equilibrio sono tali da essere abbastanza complesse sia nel raggiungere all'inizio, nel farle partire, sia poi nel mantenerle nel tempo per ottenere il risultato migliore. E questa è stata la grande opera di Montanari e tanti altri studiosi come lui che hanno messo a punto vari sistemi ma hanno individuato soprattutto le strade migliori per ottenere la migliore lievitazione. Anche perché, e devo sfatare un mito, se funziona bene il lievito naturale, il lievito naturale gestito bene è standard, è standardizzato sia nei tempi, sia nei risultati, sia nelle modalità di gestione e di utilizzo. Quindi diventa qualcosa che non è più un qualcosa di semi misterioso, vago, generico, che viene a portare dei risultati imprevedibili a seconda di un po' che sono quelli che gli danno, attribuiscono al lievito come una sorta di carattere. Dice no, il mio lievito è un po' pigro, oppure io che lo battezzo negli anni no. No, il mio invece è un po' più allegro, alcuni lo trattano come una signorina così un po' allegra. Ecco, insomma, per dire, ci sono tanti atteggiamenti da parte delle persone che lo gestiscono, ma manca un po' quell'atteggiamento che invece sarebbe da prediligere, cioè un atteggiamento un po' più scientifico, un po' più reale, sostanziale, rispetto a questo che è un po' romantico, il lievito, la gestione del lievito significa allevare dei microorganismi, questo noi facciamo, alleviamo i microorganismi, ne parleremo la prossima volta, però la grande differenza fra un lievito di birra e un lievito naturale, qual è? Sono tutte e due biologici, abbiamo detto appartengono alla categoria del biologico, tutte e due sviluppano anide carbonica, ma sono differenti, in cosa? Allora, mentre il lievito di birra, Saccharomyces, mangia gli zuccheri e produce acidi alcolici, ha un'acidità alcol, una lievitazione cosiddetta alcolica, pensate, birra alcol, è facile fare l'abbinamento e l'associazione e quindi ricordarselo. E infatti, fra l'altro, è la stessa cosa, il lievito di birra è quello che si utilizza per la birra, il Saccharomyces è sempre lui, sono famiglie diverse, ma sono sempre loro. Apro una brevissima parentesi, sapete quanto è importante questa storia del lievito di birra? È importante al punto che si è pensato che la prima molla che ha spinto gli esseri umani a coltivare i cereali, quindi grano all'epoca, ma era manco grano, erano altre cose, tipo farro e altro, non era quello per usarlo per l'alimentazione e panificarlo, no? Era quello di trasformarlo in birra tramite l'azione dei lieviti e quindi ecco il lievito di birra, in che modo entra nel nostro discorso. Poi è stato trasferito perché produce lo stesso, quella linea carbonica che nella birra fa le bollicine, nel pane fa l'alveolatura, il pane, la pizza e tutto il resto fa l'alveolatura, ma è lo stesso meccanismo. Mangia gli zuccheri e produce i gas. Nel caso del lievito di birra è una lievitazione alcolica. Se voi fate lievitare e sentite il prodotto, lo annusate e sentirete nettamente l'odore di alcol, che è un profumo molto gradevole, però l'alcol è piacevole, quindi sicuramente è una cosa che tutti apprezzeremo. E poi ha questo effetto di sviluppare una quantità di aromi abbastanza definiti, tendenti verso l'acidità alcolica. Perché è importante questa storia dell'acidità? Per la trasmissione dei gusti, gusti e profumi, si trasmettono attraverso due o tre macro canali. Uno è quello del grasso, il motivo perché tanti di noi apprezzano la bistecca col grasso, quella venata, quella venazzata di grasso, è proprio quella che il grasso poi trasmette i gusti, e trasmette i sapori e quindi consente alla persona di apprezzare il piacere di quella bella bistecca. Stessa cosa avviene nel pane. Quando noi abbiamo una leggera forma di acidità, quella forma di acidità aiuta la trasmissione dei profumi e dei sapori e quindi ammigliora la percezione da parte delle persone. Ma accanto al lievito di birra, quindi lievitazione alcolica del lievito di birra, quindi alcol etilico che si viene a formare, abbiamo la lievitazione a cura dei batteri, quelli che stanno nel lievito naturale. Il lievito naturale è un'altra cosa, abbiamo detto, è molto ricco, pieno di batteri, abbiamo una parte degli stessi lieviti di birra, la candida, abbiamo detto, ma poi ci sono i batteri, lattobacilli vengono chiamati, perché hanno una lievitazione lattica e acetica. Poi vedremo quando si distacca da quella acetica e diventa lattica. C'è un equilibrio costante da inseguire, da mantenere. Nel rapporto normalmente deve essere di 3 a 1, cioè 3 volte la lievitazione lattica e una volta quella acetica e si ottiene un risultato molto molto gradevole. Dovrebbe essere normalmente 60 di lievitazione lattica, 20 di acetica e un altro 20, perché chi sta a fare i conti avrà a capire che eravamo arrivati all'80%, un altro 20 sono altri acidi volatili che vengono poi sviluppati da altri agenti e che concorrono alla formazione del gusto del pane. Il pane non ha mai lo stesso sapore. Se provate vari tipi di pane con vari lieviti, avete risultati clamorosamente difformi, proprio grazie a questa multiforme attività dei lieviti e dei batteri. Quindi, lieviti di birra. Abbiamo lievitazione alcolica, alcol etilico, odore netto di birra. La cosa piacevole è che è facile da gestire, perché tu lo misuri, lo pesi, pure con i bilancini come facciamo noi, i bilancini da pusher o da orafo, molto più elegantemente, e otteniamo un risultato molto prevedibile, soprattutto se fatto attraverso i nostri calcolapizza. Poi abbiamo invece lievitazione, sempre biologica, ma del lievito naturale, e lì entri in un mondo pazzesco. Perché, fra l'altro, ora vi faccio capire un po' come cambiano le cose, soprattutto nel lievito naturale. Come il lievito naturale è composto da una serie di prodotti, di agenti lievitanti, è chiaro che se noi agiamo in un certo modo, prediligiamo una certa famiglia di lieviti a scapito di un'altra. Per esempio, se aumentiamo la temperatura, andremo verso un certo tipo di batteri, se abbassiamo la temperatura, verso un altro tipo di batteri. Se avremo un'idratazione maggiore o minore, prediligeremo certi tipi di batteri rispetto ad altri, e avremo risultati differenti. Se avremo cadenze di rinfresco di un certo tipo, con una certa frequenza, avremo risultati diversi. Quindi capite che le variabili sono tante, comincia a diventare un problema, mettere a frutto un prodotto che sia prevedibile, affidabile. Questo è proprio importante gestire per arrivare a quel risultato che vi dicevo prima. Cioè non un lievito con un suo carattere più o meno umano, ma un lievito che abbia una predibilità totale, assoluta, che quando nella ricetta trovate 120 grammi di lievito naturale solido, voi mettete 120 grammi di lievito naturale solido e avrete i risultati previsti in ricetta. Tempo di lievitazione, a quella temperatura avrete quel risultato, raddoppierà, triplicherà, aumenterà o raggiungerà quel pH che vedremo dopo attraverso questa macchinetta qui. Quindi, se riusciamo ad avere una buona organizzazione del nostro lievito, una buona gestione del nostro lievito naturale, riusciremo ad avere una standardizzazione della gestione. E questo si ottiene attraverso i canali dell'idratazione, della tipologia di farine, per esempio, farine con crusche vanno ad aumentare la tipologia di agenti batterici e non sono le migliori, quindi quelle con crusche per il lievito naturale sono un po' da tenere da parte. Per esempio, la nostra farina è di due priori che abbiamo messo a punto, io e il buon priori 2 o il priori 2, io e lui e uno, non si sa ancora. Comunque, in tutto questo abbiamo messo a punto una bella farina, veramente bella. Questa farina, fra l'altro, è già disponibile sullo store, ma devo ancora presentarvela, quindi ve ne parlerò magari la settimana prossima. Questa farina ha un alto contenuto di crusche, siamo a tipo 1, contenuto di crusche che aumenta la quantità, la possibilità di avere gli agenti omofermentanti obbligatori. Questi lieviti che sono omofermentanti obbligatori non sono i migliori per i nostri lieviti naturali. Perché? perché sono quelli che producono acidità lattica sicuramente, ma non producono molti gas. Con il risultato che il nostro lievito avrà un sapore bello, ma non avrà una buona lievitazione, quindi un buon aumento di volume. E quindi dovremmo cercare di evitare questo tipo di crusche nella gestione del lievito naturale. Quindi si predilige la doppio zero per intenderci chiaramente. Quindi ricordatevi che questa prima regola doppio zero è da utilizzare per i rinfreschi per la gestione. Una delle variabili è questa. L'altra variabile è l'idratazione. Avere un lievito naturale solido, avere un lievito naturale liquido non è soltanto una questione di ribilanciamento della ricetta, sono proprio due ceppi batterici diversi. Amici miei, mentre il lievito gestito per esempio alla torinese o alla milanese al sacco o alla torinese in acqua come si fa per galleggiamento come lo fanno i vari morandin o al sacco quella proprio più tradizionale da sempre oppure con quella moderna libero sono tutti modi di gestione del lievito naturale solido che non ne mutano la natura. È sempre lo stesso lievito che viene gestito in maniera differente con dei risultati che vanno bilanciati in maniera diversa ma che tutto sommato sono uguali. Il lievito liquido è un prodotto completamente diverso nei suoi contenuti quindi viene a avere dei risultati diversi rispetto al lievito solido in che cosa? Ha un profumo migliore anche un'alveolatura forse anche migliore diciamo simile a quello del solido ha un profumo migliore perché ha una quantità di acido lattico molto maggiore però è totalmente carente in licoli di acidità acetica è talmente carente che l'acidità acetica che è quella che sia pur presente in bassa quantità mantiene aiuta a mantenere la shelf life del prodotto invece la sua completa assenza nell'icoli ne abbatte grandemente la durata e se fate il pane o la pizza chi se ne frega va bene tanto quello consumate il pane nell'arco di 1-2-3 giorni a settimana avete finito ma se dovete fare il panettone e quello non fate in tempo a gestirlo nell'arco di 2-3 giorni avete bisogno che abbia una certa durata per poterlo poi offrire al momento giusto nelle migliori delle condizioni e questo si ottiene se il vostro lievito ha sviluppato una buona quantità di acidità acetica e per ottenere questo bisogna orientarsi verso il solido piuttosto che il liquido ce ne sono alcuni di recente che stanno facendo test per trasformare in solido il lievito liquido subito prima dell'utilizzo ma insomma non c'è ancora una totale uniformità di vedute su questo comportamento quindi si cerca ancora per un po' di prediligere il solido per grandi lievitati e di mantenere il liquido invece per pane e pizza e quant'altro quindi questo per farvi capire che addirittura anche la semplice idratazione porta un privilegio di lievitazione acetica quindi di acidità oppure di lievitazione lattica che ha una conseguenza sul prodotto finale poi quello che scopriremo nella prossima in una delle prossime appuntamenti sarà come gestire un lievito naturale questa sarà forse la cosa più interessante che avremo a che fare cercherò di spiegarvi sia non tanto come farlo nascere perché come farlo nascere tanto impegnativo quanto poco utile ve lo fate regalare e fate molto prima una volta che ve lo fate regalare lo gestite nel migliore dei modi per due o tre settimane avrete il lievito più potente del mondo identico ai quelli più potenti che vantano secoli di lievito e quant'altro quindi sconsiglio caldamente di partire dal lievito dall'anno zero del lievito ok altra cosa che riguarda invece il lievito naturale è oltre all'idratazione la tipologia di farina la frequenza dei rinfreschi la temperatura di gestione alte temperature sviluppano molto i lieviti lattici abbattano gli acetici il risultato se voi continuate ad avere rinfreschi sempre a 28 gradi senza passare mai le temperature fresche vi ritroverete un lievito fatalmente troppo lattico zero acetico buono da sentire come profumo una meraviglia però vi ammazzerà il prodotto finale il vostro panettone sarà moscio perché non avrà la lievitazione acetica che aiuta molto nella formazione degli alveoli e anche nella shelf life quindi abbiamo già detto è importante che ci sia anche quell'acetico quindi è importante mettere in equilibrio tutto questo ambaradan di roba abbiamo fatto già una quarantina di minuti mancano pochi minuti alla chiesura non so se qualcuno ha fatto domande stanno tutti tranquilli bravi vuol dire che non ve ne frega che neanche e questo in qualche modo alleggerisce c'è Chiara che va contro tutto Chiara chiara rappresenta un esempio formidabile di gestione del lievito naturale allora ragazzi se volete vedere le cose più belle che si possono fare con il lievito naturale guardate i prodotti fatti da Chiara Chiara fa le pizze in teglia alla romana amici miei voi sapete che le pizze in teglia alla romana sono quelle che sviluppano alta alveolatura ampia alveolatura quelle che noi preferiamo avere molto fiorite ebbene si tende a pensare che il lievito naturale non dia garanzie di questo risultato quando invece vedete i prodotti fatti da Chiara vi rendete conto che insomma lei ha questa capacità innata di ottenere dal suo lievito i migliori risultati possibili che cosa dà fastidio Chiara che sta facendo nulla non disturba ciao Chiara lei invece ha un approccio molto più romantico del suo lievito lo ha battezzato non so come lo chiama lo sai tu per caso lo possiamo dire Chiara lo possiamo dire l'ha buttato dalla finestra che cosa il lievito l'ha buttato sì veramente sì perché si è offesa va beh comunque ha avuto un momento di crisi coniugale con il lievito naturale e come tutte le crisi si è sviluppata in una maniera imprevedibile bene ragazzi per oggi abbiamo finito io vi ringrazio vi ricordo che la prossima volta parleremo di soprattutto gestione del lievito naturale gestione del lievito naturale significa portare il lievito alla massima capacità fermentativa alla massima capacità di sviluppo dell'aveolatura del gas del profumo degli aromi che sono la cosa vi dico lievito naturale non c'è di meglio per ottenere dei risultati di profumo e sapori non c'è di meglio questo vuol dire che è preferibile in situazioni un po' particolari o i grandi lievitati o i pani ricchi quelli con condimenti particolari la pizza per esempio già ha dei dubbi perché c'è l'acidità del pomodoro che insomma va a incidere in maniera pesante mi fanno dei gesti con il chroma key dalla regia che ci dice che cosa ci dice ok allora no mi dicono che devo ricordare la capacità di modalità mi pare di averla già menzionata quando parlavo del lievito naturale gestito in acqua e a proposito di questa ne parleremo più diffusamente la volta prossima però i Morandini hanno messo a punto diciamo un ottimizzato la loro tecnica di gestione del lievito naturale attraverso la gestione in acqua è una cosa formidabile forse per me leggermente troppo impegnativa però devo dire che come garanzia di risultato di prodotto finale pochi superano la qualità del lievito Morandini che è veramente una modalità di gestione da tanto di cappella ok allora ragazzi belli grazie di tutto grazie all'attenzione spero di non avervi annoiato troppo tenete presente che non abbiamo fatto impasti in questo giro li faremo la prossima volta e quindi vi mostrerò come può lievitare o vi farò vedere anche semplicemente le foto ma preferirei far vedere dei risultati finali vi ricordo che ci vedremo ancora settimana prossima stabiliremo in questi giorni quale sarà l'argomento da trattare forse faremo un incrocio con Chiara Dani infatti io sto pensando di fare un rendezvous in queste edizioni con Chiara e Dani in modo da avere un risultato un po' più brillante un po' più allegro di questa chiacchierata monologo che sicuramente avrai inciso sul vostro apparato riproduttivo quindi ragazzi vi ringrazio vi saluto ho Salvatore Spina che ti dice quanto sei bello Ettore Priore aspetta Salvatore guarda quanto sono più bello se mi furbisco la barba in questo sistema un po' risorgimento guarda qua che roba Chiara ti dice che rinascerà a settembre il suo lievito ok Chiara quando rinasce non so come possa rinascere a settembre sappiamo anche la data non lo voglio sapere giustamente c'è Marina è una bellizia che ti ringrazio per i tuoi insegnamenti come si chiama? aspetta grazie mille Matteo Bacchiorvi Marilena Pelliccia Marile allora senti io ti passo Liban tu mi spedisci come dicono a Torino e così siamo pari vabbè ragazzi grazie a voi bravi per aver tenuto duro aver ascoltato questa parte un po' pallosetta va detto però è fondamentale ve la riguardate quando servirà ne parleremo un po' più tecnicamente ancora di più quando parleremo del lievito naturale lì sarà ancora più pallosa ma cercherò di essere quanto più possibile schematico e rapido quindi insomma avere una schemino che vi aiuterà poi nella gestione va bene godetevi questa settimana godetevi questo splendido calduccio che ci sta così rendendo gradevole la vita e basta io oggi pubblicherò un ringraziamento per l'evento che abbiamo fatto che tiene conto di tutti gli interventi ragazzi noi abbiamo avuto Bon Giovanni ci ha regalato un quintale e mezzo di farina che non è una cosa da tutti fra l'altro di alta qualità con una farina costosicchia quindi insomma comunque è buono Custa Rosso che ci ha regalato i pomodori Lattanzi che ci ha regalato 22 kg di mortadella ragazzi c'è stata Rita che per tutto il pomeriggio dell'evento questa mattina è stata ore e ore a affettare mortadella si è visto in braccio alla fine sembrava sembrava Schwarzenegger in un brazzo che stavano era una cosa esagerata stava lì a affettare quindi abbiamo avuto veramente tanta roba tante persone che si sono fatte in quattro ci tengo a dire una cosa che non rispetterò comunque il desiderio delle persone ma ci sono stati ragazzi che sono venuti con noi che hanno partecipato a questo evento che hanno fatto la pizza insieme a noi e sono stati particolarmente toccati da questa motivazione da questa gratitudine probabilmente per esperienze personali che mi hanno chiesto mi hanno portato un ricordo non un ricordo un importo in denaro e mi hanno chiesto di mantenere la riservatezza sul nome e questo io l'ho pensato in maniera impressionante perché avere qualcuno che fa un dono e che vuole restare anonimo nel dono che fa è veramente una delle cose più belle che l'essere umano possa fare si nasconde la mano con cui regala le cose è una delle cose più belle che si possano fare quindi vi anticipo che è probabile che questo evento verrà ripetuto anche negli anni a venire sicuramente l'anno prossimo sia pure in maniera così impegnativa però l'abbiamo apprezzato tutti quindi perché non ripeterlo sarà probabilmente anche più grande nei numeri perché ci sono tanta gente 5.000 persone da sfamare è una cosa che neanche quella dei pani dei pesci ci riusciva con 5.000 persone e tanta roba cari amici grazie ancora scusate le lunghezze le chiacchiere vi auguro una buona serata e divertitevi ancora chi può vada in vacanza ok ciao ciao grazie a tutti